Ciao amiche, ciao amici, bentrovati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi un video a tema pulizie, ebbene sì, si parla di pulizie e in modo particolare di bucato. Sapete voi che io ho una grandissima passione per tutto quello che riguarda le pulizie, il bucato e così via, quindi oggi parliamo di bucato, ma in modo ancora più particolare parliamo di bucato in lavatrice. Ho deciso di fare questo video perché molto spesso quando pubblico video inerenti i detersivi, o comunque sia tipo su Instagram o via mail, mi vengono fatte delle domande su alcuni detersivi e mi si dice secondo te quale lava meglio, quale è più performante, come ti trovi con questo detersivo, come ti trovi con quest'altro detersivo, alcuni detersivi lavano molto bene ma costano tanto, altri lavano meno bene. A questo punto a me è sorta la domanda, poiché ho sentito un sacco di pareri discordanti su alcuni detersivi, ad esempio io detesto il soft, il soft liquido, sento tantissimi invece che si trovano benissimo con il soft. Al che mi è sorto il dubbio, ho detto o io continuo a comprare delle confezioni tarocche, non vanno bene, oppure c'è qualcosa che non va. In realtà un detersivo per performare al meglio deve essere dosato nella quantità giusta, ma al di là di dosare il detersivo nella quantità giusta, è importante caricare la lavatrice nel modo giusto. Perché? Perché sì è vero che la lavatrice fa un carico da 6 kg, 5 kg, 8 kg, quello che prevede la vostra lavatrice, ma è anche vero che non tutti i programmi sono programmi che ammettono un quantitativo pari a quello che è la capienza della lavatrice. Di conseguenza che cosa succede? Che se noi facciamo ad esempio il programma lana e carichiamo la lavatrice a bomba a tappo, ovviamente che cosa succede? Succede che i panni non vengono lavati, i panni risulteranno sporchi, addirittura potrebbe anche capitare che alcuni panni risultino da un certo lato, in certi punti non risultino neppure bagnati. Questo perché? Perché a seconda del programma che voi andate ad utilizzare, il carico della lavatrice è differente. Quindi attenetevi non solo alle dosi consigliate dalla casa produttrice del detersivo in base alla quantità di bucato, ma soprattutto mettete il quantitativo di bucato corretto nella vostra lavatrice. E questo io ve lo dico per esperienza personale, perché a me è capitato di provare alcuni detersivi e di vedere che questi detersivi non lavassero particolarmente bene. Dopodiché lo stesso identico detersivo lo vedevo utilizzare da mia madre, magari su panni anche più macchiati dei miei, e in realtà a lei uscivano bene. Quindi, posto che io e mia madre abbiamo la stessa identica lavatrice, quindi andavamo ad utilizzare lo stesso identico programma, l'errore poteva essere solo ed esclusivamente il quantitativo di panni che io andavo ad inserire all'interno della lavatrice. Devo dire che leggendo il manuale di istruzioni, ho notato quelli che sono i quantitativi consigliati a seconda del programma. E soprattutto, andando a seguire proprio queste indicazioni, devo dire che non ho avuto alcun problema. Quello che devo sicuramente dire è che, attenendomi alle istruzioni, con qualunque tipo di detersivo, anche con quelli un po' più low cost, devo dire che i panni mi vengono comunque sia puliti. Altra cosa che volevo dire, molto spesso quando si seleziona il programma, le lavatrici di adesso sono fatte in modo e in maniera che il tempo si adatta a quello che è il quantitativo dei panni inseriti all'interno. Quindi, quando noi andiamo a ridurre il tempo di lavaggio, previsto che so, per il cotone, che nella mia lavatrice per dire è di 3 ore a 60 gradi, quando noi l'andiamo a ridurre, in realtà commettiamo un errore, perché se la lavatrice è caricata nella maniera giusta, se il carico è esattamente quello che deve essere, quindi non deve essere piena a tappo, che non c'entra neanche più un calzino, ma la lavatrice è caricata in maniera corretta, a seconda dell'acqua che questa va ad assorbire, il tempo si regolerà di conseguenza. Infatti, molto spesso a me capita di mettere, le asciugamani e vedere che il tempo non si accorcia. In realtà, se vado a mettere, che so, tipo le lenzuola, o comunque sia cose che assorbono di meno, vedo che il tempo di lavaggio va a ridursi sensibilmente, quindi non è necessario andare già noi a togliere del tempo, perché in quel caso lì la lavatrice, secondo me, non lavora bene. Io devo dire che per ottenere il bucato al top, e questo l'ho imparato con il tempo. Allora, innanzitutto, mi attengo strettamente a quelle che sono le indicazioni della lavatrice. Se per il programma Lana mi si dice che posso mettere due chili di panni, ora non è che io vado a pesare i panni, però più o meno mi regolo a occhio. Così come per quanto riguarda i cotoni, per quanto riguarda la seta, per quanto riguarda i delicati. Non accorcio mai il programma di lavaggio, lo accorcio solo ed esclusivamente nel caso in cui io voglia veramente fare un lavaggio ancora più breve rispetto a quello che è impostato dalla lavatrice, rispetto a quello che è presente nei vari programmi della lavatrice. Ma normalmente quando faccio viaggiare la lavatrice con panni mediamente sporchi, quindi panni che si mettono a lavare perché sono panni sporchi, o comunque sia quando voglio proprio lavare, non rinfrescare, perché rinfrescare i panni è un'altra cosa. Quando proprio voglio lavare i panni, voglio dire che i panni siano lavati, mi attengo scrupolosamente a quelle che sono le indicazioni, ovviamente senza stare lì a spaccare il grammo, però a occhio mi regolo. Metto il quantitativo di detersivo che viene indicato, ovviamente utilizzo il detersivo consigliato sia per la seta, sia per la lana, sia per il cotone, non vado a mettere lo stesso identico detersivo, anche se vi posso dire che mia madre lava tutto con il detersivo liquido e lei lava lana, lava tutto quanto e non ha alcun problema. Io preferisco andare a distinguere, però vi posso garantire che da quando seguo queste istruzioni sono riuscita innanzitutto ad utilizzare dei detersivi anche low cost. In secondo luogo, risparmio, voi mi dite, eh sì, tu la fai viaggiare, magari non completamente piena, però poi i panni è meglio farla viaggiare completamente piena, questa lavatrice per le tre ore quelle che sono e poi a me quando io andavo praticamente a riempire la bomba e facevo magari il programma, ci toglievo che so a quell'ora, la facevo andare un po' meno, a me i panni non venivano perfettamente puliti, poi mi toccava che cosa fare? Stare lì, metterli in ammollo, candeggiare, risciacquare, metterli di nuovo in lavatrice, gli fare un altro lavaggio per risciacquare, quindi perdevo del tempo, andavo a utilizzare altro detersivo, quindi della candeggina che è particolarmente inquinante, altra corrente e così via. Quindi io devo dire che non ho più, ho candeggiato veramente pochissimo da quando seguo questo metodo e ormai diciamo che io me ne sono resa conto che sbagliavo ormai da 4-5 mesi, quando appunto andando da mia madre e vedendo che lei con la stessa identica lavatrice otteneva risultati migliori, gli dicevo, utilizzando molto spesso detersivi anche davvero low cost, gli dicevo, cavolo mamma c'è qualcosa che non funziona nella mia lavatrice, in realtà ero io che sbagliavo, ero io che sbagliavo a caricare la lavatrice, quindi a mettere la lavatrice sempre a tappo, a farla andare completamente piena in tutti i casi e mi rendevo conto comunque sia, soprattutto nei capi scuri, questo era un tappo che non venivano ben lavati, quindi mi toccava magari rilavarne un po' a mano, non venivano ben risciacquati, quindi date un occhio a quello che è il libretto di istruzioni, in questo modo utilizzerete correttamente il vostro elettrodomestico, utilizzerete la quantità giusta di detersivo, farete lavorare la lavatrice per il tempo effettivamente necessario e avrete un bucato impeccabile che non necessiterà quindi di ulteriori lavaggi e di ulteriori trattamenti. Detto questo io spero di esservi stata utile, di avervi quantomeno tenuto compagnia, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se vi fa piacere, di lasciare un like di sostegno, di seguirmi anche sul mio altro canale dove mi occupo solo ed esclusivamente di outfit, di venirmi a trovare su Instagram dove mi trovate come Sara Franci Beauty e vi lascio anche il mio account, il mio link per accedere alla mia pagina Patreon. Detto questo vi mando un enorme bacio, alla prossima!